bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e ragazzi una delle sfide della settimana 3 di fortnite è quella che ci chiede di raccogliere gli anelli a lago languido ce ne sono ben quattro da prendere e quindi andiamo subito a vedere dove trovare i nostri anelli le posizioni corrette ci spostiamo quindi porca misera di qua ed eccoci qua ragazzi come vedete il primo è esattamente in cima all'albero uno degli alberi grossi di lago languido lo capite perché siamo dietro praticamente alla barca e vicino al benzinaio mandando avanti se ci spostiamo dove c'è il negozio che ho scritto big shots quello che ci porta verso il fiume esattamente sopra gli ombrelloni rossi vedremo il secondo anello è davvero semplicissimo riconoscerli il terzo anello invece si trova all'ingresso di lago languido dove c'è la barra la sbarra quella che si alza e come notate la postazione di vedetta chiamiamola così quindi davvero molto semplice per passare poi all'ultimo anello che invece è in mezzo al palazzo dove c'è il segnale cap and carp quindi molto semplice anche qua basterà semplicemente passare intorno per vedere il quarto ed ultimo anello vi ricordo ragazzi che basta semplicemente andarci sopra lo potrete in questo modo ottenere prendetene 4 14 mila punti esperienza e anche la sfida di questa settimana è fatta io ringrazio tutti per aver guardato questo video mi raccomando ragazzi su twitch non andate ve ne sto semplicemente mandando l'outro noi ci vediamo in live su twitch ciao 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 Grazie a tutti.